Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Il video di oggi è dedicato a chi vuole applicare una strategia semplice per investire sul lungo periodo, quindi sfruttando principalmente i trend primari del mercato, ovvero quei trend su time frames più ampi. Non andremo a trascurare tuttavia quei contromovimenti, diciamo così, che sono anch'essi sfruttabili molto bene per da un lato coprire eventuali perdite che si potrebbero affrontare proprio in quel periodo di contromovimento utilizzando la rimanente parte della strategia e dall'altro per amplificare, perché no, i guadagni che essa ci può dare. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre il mio lavoro ed i miei contenuti lasciatemi cortesemente un like a questo video che a me fa immensamente piacere e mi incentiva sempre a continuare a produrre. Inoltre iscrivetevi cliccando sul pulsante qua sotto, cliccate anche la campanellina per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati con i miei ultimi video, tra l'altro in particolare in questo periodo. Perché? Perché non so se lo sapete, se mi seguite su Facebook è partito oggi il nostro contest di Pasqua con in paglio ben 0.02 Bitcoin più 35 Basic Attention Token per un totale di controvalore di circa un centinaio di euro al tasso attuale, sempre che Bitcoin non dà più ulteriormente. Quindi mi raccomando, correte su Facebook ad andare a vedere come si partecipa, per chi non lo avesse ancora visto, intanto lascio il link al post per partecipare qui nella descrizione così potete leggerlo tutti. In breve come funziona? Dovete ascoltare molto bene questi video e cercare gli indizi nascosti che vi do su come andare a reclamare il premio che giace in un wallet bello tranquillo, affinché qualcuno di voi appunto non svelerà l'enigma. Detto questo leggetevi mi raccomando il post che vi linko in descrizione così capirete tutto molto meglio ed iniziamo subito il video di oggi che parla per l'appunto di questa strategia. Seguitemi! Gli indizi di oggi saranno volutamente posizionati in maniera semplice da capire, cosicché possiamo poi crescere con la difficoltà nei successivi video. Mi raccomando, tenete gli occhi e le orecchie aperti lungo tutta la durata del video perché potrebbero essere disseminati proprio qua i primi indizi del concorso per riscattare quegli 0,02 Bitcoin. Quindi mi raccomando, attenzione. Da qui a Pasqua durerà, quindi non sarà soltanto nel video di oggi ma anche spalmato per tutta la settimana sul pezzo, mi raccomando. Parlando della nostra strategia invece, sono partito da un grafico pulito volutamente e sono partito, se avete fatto caso, da un time frame settimanale che è quello che utilizzo di base per impostare per l'appunto una strategia su un medio-lungo periodo. Quindi la strategia si frappone di due parti principali di posizioni, ovvero una basata sul time frame settimanale ed una basata sul time frame giornaliero contrastante quella su time frame settimanale, chiamiamola hedging se vogliamo. Come si pesano le due posizioni? Sinceramente è un po' a discrezione ovviamente dell'utente e di colui che applica questa strategia del proprio portfolio management, del magari il fatto se magari anche delle altre posizioni in altri mercati aperte, cose di vario tipo. Personalmente nell'applicare una strategia di questo tipo adotterei un peso del tipo 70-30 piuttosto che anche 80-20 dove chiaramente la maggioranza del capitale va sulla posizione di lungo periodo. Per quale ragione? Perché in primis è una posizione meno rischiosa, va a posizionarsi appunto su un time frame più ampio, su delle oscillazioni più lunghe e quindi più facilmente individuabili e seguibili. Sono quasi assimilabili addirittura ai mercati tradizionali come l'azionario. È una strategia che infatti utilizzo molto anche lì, con time frames diversi e ancora più ampi, però la utilizzo anche lì. Chiaramente i time frames differiscono perché le oscillazioni sui mercati tradizionali non sono minimamente comparabili con quelle del mercato cripto. Quindi prendiamo come esempio ovviamente il grafico di bitcoin che ho preso da Bitstamp. Allora vedete qua il ciclo rialzista e il ciclo ribassista degli ultimi due, che li utilizzerei come base ovviamente passata per mostrarvi l'intento della strategia stessa. Partiamo per l'appunto dal time frame più ampio che è quello settimanale, dal come impostare una posizione di quel tipo lì. Chiaramente deve essere una posizione trend follower, in quanto noi ci basiamo su segnali che sono saltati fuori da un time frame di questa ampiezza e ci basiamo su di essi per aprire la nostra posizione principale. Quindi devono essere segnali molto forti, segnali confermati e soprattutto evidenziare un trend in corso. Quindi no a segnali anticipatori, no a posizioni fortemente speculative con stop loss molto stretti, sì invece a posizioni incrementali durante il trend. Quindi ai primi segni su time frame settimanale di trend crescente che possono essere rottura delle medie mobili per chi utilizza le medie mobili come indicatori principali, piuttosto che rottura di resistenze importanti con conferme, mi raccomando, su time frame settimanale, non in maniera rapida. Quindi una rottura di una resistenza e la conferma di almeno una barra due settimane di continuazione di movimento. E allora poi inizio a entrare sul ritracciamento di quel movimento impulsivo lì. Vi faccio un esempio, avrei potuto aprire una posizione di quel tipo in questo pattern triangolare. Guardate, qua avevamo una resistenza molto significativa, ricordiamo che siamo su time frame settimanale, quindi anche un andamento più breve è comunque significativo, perché a questo intervallo guardate quanti mesi sono. La resistenza è stata rotta, quindi pam 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 conferma addirittura. E quindi io cosa faccio? Io inizio ad osservare, vedete, il movimento complessivo in questa maniera, utilizzando Fibonacci, utilizzando sempre un'analisi ai supporti alle resistenze, utilizzando le medie mobili e quant'altro, e cerco di frammentare un inizio di posizione in ingresso. Che cosa significa? Significa che inizio a dire, allora, il movimento si è svolto da qua a qua. Quindi posso mettere, ad esempio, un primo entry anche sul 38,2 volendo, poi un altro sullo 0,5, un altro sul 61,8. Un entry, ad esempio, sul test primo della media mobile a 9 periodi, un altro entry sul test, ad esempio, della media mobile a 30. E posso utilizzare come stop loss, invece, quella 100, piuttosto che uno stop loss comunque abbastanza largo, che mi permetta di gestire la posizione in maniera non speculativa, per l'appunto. E, ad esempio, potevo metterlo qua sotto, vedete, sotto questi due UX, o addirittura qua, o addirittura qua. Buona pratica, mio parere, in questi casi, è frammentare lo stop loss in più posizioni. Quindi, magari, pesando un po' meno quello più stretto, un po' di più quello via di mezzo, e un po' meno sempre quello più largo, in assoluto. Ok? Quindi, fondamentalmente, si tratta di andare a individuare delle posizioni favorevoli, come il breakout di una resistenza, in questo caso. Ma potrebbe anche essere il cross delle medie mobili. Potrebbe anche essere, per chi utilizza i Cimoku, i segnali che ci dà il sistema Icimoku. Quindi, la rottura della cum rialzista, piuttosto che il cross delle due medie mobili, anche lì. Insomma, tutti quei vari segnali che il sistema Icimoku ci dà. E dipende poi, appunto, dal sistema che uno utilizza, perché c'è chi ne usa uno, c'è chi ne usa un altro, c'è chi usa i supporti e le resistenze, e basta. E quindi, ci può stare anche a basarsi soltanto su quello. L'importante è avere segnali di un trend in atto. Ok? Vedete qua, il segnale era evidente, perché abbiamo, siamo usciti da un pattern di accumulazione sui minimi. Abbiamo avuto l'incrocio rialzista delle due medie mobili 9.30 su time frame settimanale. Un attimo di accumulazione rialzista e un breakout che ci ha confermato il movimento. E quindi qua, vedete, ci dice, è ora di iniziare ad agire. Abbiamo fatto anche l'ire high rispetto a qua. E quindi mi interessa entrare nel ritracciamento. Ovviamente non entro con tutta la posizione da subito. Sarebbe pura follia, d'accordo? E quindi cosa faccio? Entro una parte sul ritracciamento qui, come abbiamo visto poco fa. Cosa c'è qua? Aspettate un attimo. No, non c'entra niente. E dopo di che vado a cercare il movimento successivo di accumulazione, ad esempio. Oppure dei movimenti di un attimo ritracciamento. Come in questo caso posso andare a piramidare la mia posizione laddove il movimento ritraccia, in parte, che ne so, sulle medie mobili, piuttosto che utilizzando anche qua fibonacci sul complessivo del movimento e andando a riprendere il 38.2, che di solito è il punto dove poi riparte verso l'alto, nel caso in cui abbiamo sempre una continuazione rialzista. Nel caso in cui usiamo i cimoku possiamo ad esempio usare i rimbalzi sulla Tenkan. Ci sono tantissimi indicatori utilizzabili. Fatto sta che ad ogni continuazione rialzista, quindi magari un altro esempio che vi faccio, nel momento in cui viene tracciato un higher high, io vado a pescare poi il ritracciamento. Guardate, qua era pulitissimo, quindi qua si applicava molto bene. Io di solito sul settimanale utilizzo le chiusure come punti dove tracciare supporti e resistenze. Quindi guardate, qua abbiamo avuto il primo entry, segniamocelo con uno. Poi il ritracciamento e siamo entrati in quest'area qua. Poi abbiamo avuto il movimento rialzista. E poi qua abbiamo avuto l' higher high. E quindi cosa faccio? Dall' higher high, nel momento in cui ritraccia, visto che ho avuto un'ulteriore conferma del trend in atto, io cerco di andare a incrementare la mia posizione. E quindi entro sul ritracciamento che posso valutare, come vi dicevo, da qua a qua, ovviamente facendo un fibonacci qui, e frammentando di nuovo gli entries come abbiamo fatto prima. Come abbiamo fatto qua, praticamente. Oppure posso usare di nuovo le medie mobili, ovvero i rimbalzi sulle medie mobili. Posso utilizzare supporti o resistenze. Quindi questo che ha flippato, una resistenza che ha flippato a supporto, ci metto un entry anche qui. E insomma, metto insieme tutto qua. I chimoku, come ho detto prima. Metto insieme tutto quanto e vado a costruire un incremento della posizione. Stessa cosa qui, stessa cosa, oddio adesso qua sale un po' troppo, no, sale un po' troppo velocemente, però stessa cosa qui. E fino a quando continuo a fare questo incremento delle posizioni? Allora, o fino a quando mi iniziano a scattare gli stop loss? Che posso gestire in diverse maniere. Gli stop loss sono molto anche lì a discrezione del trader, dell'investitore. C'è chi utilizza una media mobile per fare un trailing stop, quindi ad esempio la media mobile 30, che è un sistema che personalmente non mi piace molto. Io solitamente come sistema per spostare gli stop loss e fargli seguire il trend, utilizzo uno spostamento manuale, molto semplice su time frame settimanale, perché prevede lo spostamento dello stop loss ogni volta che viene tracciato un higher low. Ovviamente queste assunzioni sono in un trend rialzista, quindi in una posizione long. Higher low, metto lo stop loss sotto all'higher low, scusatemi, in pappino. Ogni volta che ne traccio uno, ci metto lo stop loss sotto a quello precedente. Quindi se sono qui, metto lo stop loss qui sotto, poi se faccio l'higher high, sposto lo stop loss sotto al low precedente. E così via. E quando è che scatta? Quando traccio un lower low, fondamentalmente, quindi quando ho i primi segni di inversione di trend. Che rischio c'è in questo modo? Il rischio di perdersi i movimenti ad esempio di questo tipo. Vedete, l'ultimo impulso in questo caso non ha fatto nessun high low, quindi nessun tipo di ritracciamento. E di conseguenza appunto rischiavo di perdere il movimento stesso. Come faccio ad ovviare a questi inconvenienti? Facendo dei take profits lungo il percorso. I take profits quando è che vale la pena farli? Allora, io consiglio due o tre criteri. Il primo è la distanza del prezzo dalla media mobile di breve. Quindi in questo caso abbiamo la IMA9. Vale la pena magari costruirsi un indicatorino che mi dice quanto dista il prezzo dalla media, magari in termini relativi. Quindi un prezzo fratto media. Tanto più il prezzo è distante dalla media, tanto più è probabile che ritracci. E quindi vale la pena assicurarsi un po' di profitto. Altri indicatori che mi possono venire incontro nel fare take profits sono ad esempio il MACD, l'RSI, insomma. Quei classici indicatori che tutti quanti conosciamo. Le bande di Bollinger, insomma. Vale la pena, oltre all'aprire posizioni, a continuare a piramidarle fin tanto che il trend si conferma crescente, andare anche a fare dei take profits lungo il percorso, proprio per assicurarsi comunque un po' di profitto. In particolare quando il prezzo va parabolico. Anche le estensioni di Fibonacci possono essere molto molto utili per andare a comprendere un potenziale target del movimento successivo. Vedete? Spesso e volentieri sono estremamente utili e veritiere, tra l'altro. Di movimento in movimento io me la vado a tracciare, vado ad individuare dove potrebbe atterrare il leg up successivo. Quindi questi fondamentalmente sono i metodi per andare a costruire una posizione sul lungo periodo. Ricapitolando in breve abbiamo il piramidare posizioni mentre il trend si rafforza. Un ulteriore consiglio, ecco, che aggiungo adesso, che non abbiamo detto prima, è che il trend, quando poi sembra esagerato e iperesteso, allora vale la pena smettere di piramidare posizioni. Quindi ad esempio appunto quando l'RSI va in zona ipercomprato, quando vediamo che il MACD rischia un incrocio, quando vediamo che il prezzo inizia a tenere una certa distanza dalla media mobile, oppure semplicemente quando vediamo candelone verdi una dopo l'altra che sembrano particolarmente anomale. Ecco, lì non è più il caso di entrare, anzi è il caso di accantonare l'idea di entrare e invece di pesare un po' di più i take profits. D'accordo? Quindi questo è per costruire il grosso della posizione, 70%, trend following su un time frame di medio periodo, come può essere il settimanale. laddove poi il trend inizia ad invertire e inizialmente farò profit con i miei take profit, per l'appunto. Dopodiché mi scatteranno gli stop loss, che ci si augura nel frattempo saranno diventati stop profit se ho seguito per bene il trend, e dopodiché parzialmente inizierò ad uscire dalle posizioni. Nel mentre, che adesso andiamo a vedere, avrò quel 30% in controtrend che mi aiuterà magari appunto a mitigare le perdite piuttosto che ad allineare i profitti, ad incrementare i profitti. Ovviamente più un trend si inverte e più i pesi si invertono, ovvero quel 30% di breve diventano posizioni long e quel 70% di medio-lungo periodo diventano posizioni short, seguendo per l'appunto l'invertire del trend, con le stesse logiche che abbiamo applicato prima. Quindi, quando abbiamo inizialmente dei periodi che potrebbero sembrare ancora ritracciamenti e quindi diventa difficile in questo caso, ad esempio, sarebbe stato molto difficile operare in questa ottica qua. Perché? Perché l'ultimo leg up che ha impresso la direzionalità è stato rotto soltanto qui, che è stato creato il lower low. Qua era una zona veramente difficile nella quale operare, motivo per cui non mi sarei sbilanciato 70-30, ma avrei tenuto magari un 50-50 o comunque un peso più equo tra le posizioni di lungo e le posizioni di medio. Quindi, sempre, ripeto, con la stessa logica, ovvero le posizioni di lungo, visto i primi segni di inversione, quindi il fatto che questo high poi è stato seguito da un lower high, questa era la prima cosa che mi faceva sospettare, il fatto che abbiamo bucato la media e ci abbiamo iniziato a gravitare sotto, poi qua addirittura si sono incrociate le medie, insomma, era un continuo di segni di trend reversal e pertanto avrei iniziato a piramidare posizioni short, trasformare le posizioni long in short, nel mentre che scattavano gli stops e facevi take profits. Andiamo a vedere invece le posizioni di breve, come funzionano, d'accordo? Allora, le posizioni di breve, come vi dicevo, vanno un po' in controtendenza, quindi andiamo sul daily, perché le posizioni di breve si prendono lì. Allora, ritorniamo su questa parte qua. Ora, devo trascurare completamente quei discorsi che ho fatto sulla posizione di lungo periodo, che era ovviamente trend following. Che cosa devo fare? Devo guardare sul daily gli stessi segni che ho guardato sul weekly, per prendere le posizioni long. Quindi, quando vedo che sul daily ho dei segnali di possibile reversal, quindi lower high, piuttosto che incrocio delle medie mobili, rottura di un supporto, rottura di una figura al ribasso, come può essere ad esempio questa. Prendo posizioni con un orizzonte temporale più breve. Quindi, cosa faccio? Ad esempio qua, se voglio giocare sulla rottura di questo pattern, entro e metto uno stop loss qui. E questa è una prima posizione breve, ok? E questo è quanto, in realtà. Posizione short sul breve. Poi lo stesso lo dovrei fare ai ritracciamenti successivi. Quindi, quando vedo il formarsi di un lower low, ad esempio, su time frame daily, per l'appunto, la rottura di un pattern, l'incrocio delle medie mobili, i segnali di quel tipo lì, io vado ad operare in controtendenza sul contromovimento. Chiaramente, a cosa devo stare attento? Che, tanto più il trend primario è potente e marcato, e quanto più dovrò dare priorità adesso. Quindi, quel 70-30 potrebbe diventare 80-20 o 90-10, in un mercato come poteva essere quello del 2017. Mentre, come vi dicevo prima, in un mercato dubbio, come poteva essere quello del 2018 e inizio 2019, ha più senso pesare in maniera quasi equa addirittura le due posizioni. Quindi, ad esempio, qui che avevo nasato un po' una grossa correzione, quindi un inizio di bear market su un time frame di lungo periodo, valeva la pena andare a operare long sui contromovimenti. Quindi, andandoci a pescare i rebound e cercando di operare long, appunto, sui rebound, sempre con stop loss orientato al time frame daily, e andare così a, da un lato, ridurre le perdite che avevo sulla strategia di medio-lungo periodo, e dall'altro, in certi casi, andarne ad incrementare il profitto. Perché, nel frattempo, io ho una posizione short che continua e cavalca il più possibile la tendenza primaria, e una posizione long che invece va a cercare di mangiare queste situazioni qui. Come faccio ad aprire una posizione long in un bear market, oppure una posizione short in un bull market? Ve l'ho detto, è una cosa più difficile e più speculativa. Quindi, principalmente, io mi orienterei sull'utilizzo dei supporti e delle resistenze, nonché magari Ichimoku, per chi lo utilizza, che anch'esso fornisce una suite completa di supporti e resistenze di vario tipo. Che dire, questo è quanto? Non so se avete capito il concetto, ecco, non voleva essere una cosa meccanica, perché, alla fine, poi, come vedete, l'approccio dipende molto da persona a persona, anche perché bisogna essere a proprio agio con le operazioni che si fanno. Però, l'impostazione è di questo tipo. Quindi vi chiedo, cosa ne pensate? Vi sembra un approccio intelligente? L'avete mai provato? Io, solitamente, è l'approccio che utilizzo di più, e principalmente, addirittura, nei mercati tradizionali. Spero che abbiate colto gli indizi che vi ho dato in questo video. erano molto, molto semplici. E c'è un ultimo indizio che vi permetterà, diciamo così, di interpretarli tutti quanti, e questo indizio è BIP32. Sicuramente avrete già capito. Dimenticavo un'ultima cosa. Vivid. Numero 5. Un saluto e al prossimo video. Mi raccomando, sempre sul pezzo. Grazie a tutti.